Le risorse regionali assegnate per l'abbattimento di sette punti dei mutui eccesi dalle imprese agricole e considerate all'Unione Europea illegittimi verranno da oggi considerati come aiuti in regime de minimis, vale a dire come previsti dalle norme comunitarie. La soluzione è stata ufficializzata oggi alla presenza delle organizzazioni agricole dal Presidente della Regione Ugo Capellacci e dall'Assessore regionale all'Agricoltura Oscar Cherchi. Trova così soluzione la vicenda della legge regionale 44 sull'agricoltura che aveva determinato l'erogazione di aiuti per 32 milioni e mezzo di euro e coinvolto 4.947 imprese. Le aziende 4.243 che non avevano pagato quella quota di interessi pari a 26 milioni di euro non dovranno restituire quanto ottenuto con l'abbattimento degli interessi ma solo il capitale mentre le 704 che hanno restituito in modo volontario otterranno la restituzione automatica dell'importo attraverso l'agenzia Argea. La Regione tenterà di trovare anche una soluzione con le banche per quelle aziende che a causa della legge 44 sono finite all'asta perché non sono riuscite a pagare le rate del mutuo. Questa legge ha creato tragedie personali in una serie di casi, ha ricordato Capellacci. La legge 44 dell'88 nata come forma di sostegno per l'agricoltura si è rivelata una vera e propria trappola per tutti quelli che ne hanno usufruito. Nel 2011 abbiamo sottoscritto l'accordo con le organizzazioni agricole per avviare un percorso e proprio una delle soluzioni era quella di considerare questi contributi erogati in regime di de minimis. A maggio ha concluso Capellacci abbiamo formalizzato la richiesta all'Unione Europea e la risposta è stata positiva. La soluzione trovata dalla Regione è stata accolta con soddisfazione dalle associazioni agricole perché chiude una vicenda che ha sconvolto non solo le aziende ma anche gli agricoltori e le loro famiglie.